In questo video vi mostrerò come abilitare il riconoscimento facciale, Face ID, per l'apertura delle app su iPhone. Con il nuovo aggiornamento a iOS 18, è possibile proteggere qualsiasi applicazione con Face ID, richiedendo l'autenticazione per l'accesso. Per attivare questa funzione, aprite le impostazioni, scorrete verso il basso e selezionate in Generali. Successivamente, toccate d'aggiornamento software né assicuratevi di avere installato iOS 18. Una volta aggiornato il dispositivo, potete attivare la protezione tramite Face ID per ogni singola app. Tenete premuto sull'icona dell'app desiderata e selezionate l'opzione Richiedi Face ID. Vi verrà richiesto di autenticarvi con Face ID per confermare l'impostazione. D'ora in poi, ogni volta che aprirete l'applicazione, sarà necessario utilizzare Face ID. Per disattivare questa funzione, ripetete la procedura, tenete premuto sull'icona dell'app e selezionate Non richiedere Face ID. Se questo video vi è stato utile, vi invito a lasciare un mi piace e ad iscrivervi al canale per altri contenuti simili. Grazie per la visione. Grazie per la visione.